ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi ho preparato per voi un nuovo tutorial spero che vi piaccia e se vi piace lasciatemi un coricino sotto nei commenti grazie inizierò questo video con la presentazione di questa bellissima collezione della marca modelones i colori sono super ottonali quindi perfetti per questa stagione quando ho finito di attaccare adesivi copro tutto con finale opaco e asciugo in lampada mescolo il paint marrone senza dispersione con questo bellissimo colore un po ramato siccome io voglio tenere le linee molto sottile prendo solo un pochino di colore nella punta del pennello copro la parte tra i adesivi con il colore dopo quale asciugo in lampada e dopo le copro con finale senza dispersione ecco qui Grazie a tutti. Uso il colore perlato per sfumare i due colori in mezzo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.